Nel 1979 molti bambini con sindrome di Down erano in istituto. Non giocavano al parco con gli altri. Oggi tutti i bambini con sindrome di Down vivono in famiglia e giocano con gli altri. Nel 1981 da poco i bambini con sindrome di Down potevano frequentare la scuola dell'obbligo. Non tutti andavano a scuola. Oggi frequentano le scuole dall'asilo nido all'università e tutti vanno a scuola. 83, 84, 85. Nel 1985 non esistevano lavoratori con sindrome di Down. Oggi il 13% degli adulti lavora e saranno sempre di più. Nel 2019 l'associazione italiana Persone Down compie 40 anni. 40 anni di fatiche, di gioia, di grandi risate, di cadute e di incredibili successi. E anche quando sembrava impossibile siamo sempre andati avanti. Come faremo domani? Per celebrare questi 40 anni, un camper percorrerà l'Italia dal 21 marzo al 13 ottobre, promuovendo incontri ed eventi. Un camper su cui si alternerà una staffetta di persone con sindrome di Down, familiari, volontari, per raccontare, festeggiare e stupire chi ancora non ci conosce. Segui il Down Tour e sostieni i progetti dell'associazione italiana Persone Down. È una rivoluzione che dura da 40 anni. Sostienila.